6 5 3 4 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Siamo terminati, la festa e grazie a voi. Complimenti a tutti e a loro che tornano a fare la terza volta, che si stila e stila il tracciato della condizione fisica per la prima, in ogni caso un bel modo per conoscere la parte organica di Sassi, grazie al volontariato, grazie a voi che ci avete preferito in questo weekend di eventi importanti tra le montagne, tra le maratone, le eventi, insomma, non ci facciamo mancare niente. Grazie Oliver Samhain, ovviamente, l'uomo scoppa, no? Ecco, con quello che pulisce e soprattutto, ragazzi, occhio ai rifiuti, quello che era la prima in particolare. Noi vi aspettiamo tutti, e questo è un grande valore aggiunto, un sabato di corso di festa sulle montagne modenesi. A Ticardi! Vi aspettiamo anche noi alla Zebio Ram Online, il 30 aprile, ritrovo 18.30, partenza 19.30. Pazzano di Sera Mazzoni! Ciao, stay tuned!